Siamo qui con Anna delle Stelle Scadenti, in partenza un po' blusca e poi gli si passano E' un po' di fiducia a capire questa realtà, ci siamo smoccati, è stato il loro portiere, ci ha aiutato in buono Comunque tre punti importanti, sei ballante, speriamo che andrà così anche per le partite, ci vedremo presto